del gran finale e marcia trionfale. Dirige il giovane direttore e compositore, il maestro Lorenzo Castriota, che sia pure giovanissimo si è già distinto in diverse manifestazioni concertistiche. Grazie. 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 Si conclude così la manifestazione di questa sera. I tre brani che ascolteremo ora sono per ricordare i bersaglieri e i granatieri caduti su tutti i fronti. Il silenzio trombasolista Giovanni Boccia, Il piave di Ea Mario e Lino di Mameli. Grazie. 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 Grazie.